Senta, lo puoi spoluzziare, me lo sciargo. Ma lei questa sera è libero. Vai rimanisci anche io, sono Padre Alberto. Ah, ma fai, lo dimmi così. Lei questa sera è disponibile? Può fare io? Oh no, c'ho due ragazze che dovevo dare l'estrema unzione. La voglio in estrema. La voglio, la voglio, la voglio! La voglio in estrema.